Ciao, in questa videopillola ti vorrei parlare del bersaglio melodico e delle note target. Allora, il bersaglio melodico lo intendo come la risoluzione di una frase, premesso che dal punto di vista grammaticale, diciamo, di un fraseggio, possiamo pensare a una frase costituita da tre momenti, un approccio, uno sviluppo e una risoluzione. Un approccio può essere un qualcosa, uno slide, una nota vibrata, una nota più accentuata, una nota che in partenza è una ghost che quindi serve per acciaccare o approcciare un'altra nota ancora, un qualcosa che insomma faccia capire l'inizio del fraseggio. Lo sviluppo non è nient'altro che la tua scelta di intervalli, abbellimenti, quindi quello che tu vuoi comunicare attraverso la tua frase, la tua costruzione melodica e la risoluzione è un po' la nota sul quale terminerai che può essere una reprise dalla nota del tema, della melodia, della canzone che tu stai suonando se è una canzone sul quale tu stai suonando, quindi una nota della melodia ma tanto quanto una nota dell'accordo, una nota outside che si scontra quindi armonicamente e melodicamente con l'accordo. La nota di risoluzione. Allora, all'interno del fraseggio come darsi una motivazione per lavorare sulla grammatica e sulla costruzione? Beh, il bersaglio melodico vuol dire prendere in considerazione la nota sul quale si finisce e in questo caso io prendo a considerazione le toniche dell'accordo, l'esempio te lo farò con il 2-5-1 in Do maggiore, quindi gli accordi sono Re minore 7, Sol 7, Do major 7. Questi sono i tre accordi interessati, quindi la nota a bersaglio sarà la tonica Re, Sol e Do. Le note target sono, in questo caso, sono anche con dette good note, cioè note guida come target, quindi come nota bersaglio, cercheremo di arrivare alla tonica passando nel nostro fraseggio attraverso le note guida, i toni guida, che in questo caso sono il terzo e il settimo grado di ogni accordo, quindi per l'accordo di Re saranno le note Fa terzo grado e Do settimo grado, per l'accordo di Sol saranno il Si terzo grado e il Fa settimo grado, e per il Do saranno il Mi terzo grado e il Si settimo grado. Quindi si comincia a costruire appunto il fraseggio dando una certa disciplina. Io adesso come sempre vado a registrare un loop con il 2, 5 e 1 e poi ti faccio qualche esempio di improvvisazione. Grazie a tutti. Ok, ti faccio qualche esempio delle frasi che ho suonato. Innanzitutto che cosa sto utilizzando? Beh, Do maggiore, quindi sto visualizzando Do maggiore con i modelli verticali, quindi Do maggiore in questa posizione, oppure in questa. Quindi l'interpolazione fondamentalmente di questi due modelli, interpolazione nel senso che coprono un'area dove ho visione appunto di questi accordi, Ri minore, Sol 7 e Do measure 7. Vado a costruire delle frasi innanzitutto dove tengo un andamento principalmente in ottavi portati swing. Quindi in framezzo con qualche terzina, ma questo è il tipo di portamento. Dopodiché, sempre il consiglio è quello, ragiona e lavora su un accordo per volta. Cioè ti fai un loop soltanto con il Re minore e finché non sei in grado di controllare melodicamente veramente ciò che vuoi, di costruire delle linee e delle cellule melodiche che abbiano un senso, un significato nei confronti dell'accordo. Ti devi concentrare sulla triade dell'accordo, triade di Re minore, Re, Fa, La. Vedere quindi l'accordo nella sua forma completa, la triade nello stretto, le note che ti interessano, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, quindi la scala di Do presa semplicemente in questa porzione e già costruire delle frasi dove l'ultima nota sia ad esempio o il Fa o il Do. Ti consiglio il Fa per chiudere a Re e il Do per muoverti verso il Si, terzo grado di Sol. Quindi interessante usare il Fa come good note, terzo grado, per sensibilizzare melodicamente la tonica e il Re. E il Do, settimo grado, per uscire dall'accordo di Re minore 7 e andare verso l'accordo di Sol 7. Questo per parlare di un po' di grammatica, di fraseggio, sperimentare ovviamente con diversi intervalli nei confronti della costruzione della frase, ma fare in modo che l'ultima nota sia una good note, quindi o il Fa o il Do, o il Si e il Fa per l'accordo di Sol e il Mi e il Si per l'accordo di Do. Se ti è piaciuta questa videopillola, condividila con i tuoi amici, metti un like alla pagina La Chitarra Jazz per Tutti se non l'hai ancora fatto e come sempre buona musica. Ciao ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!